ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi io questo video lo sto facendo sopra un canale che si chiama tonicube ok ragazzi qui tutto a posto però lo sto facendo con un altro telefono che è un apple non è un samsung quindi non potrò fare le modifiche come le faccio su samsung però se volete vedere i miei video vi metterò a questo canale poi cercherò di fare una nuova intro che non credo che il metodo di samsung viene anche con apple allora ragazzi oggi è sabato 20 gennaio come vi ho detto nel video scorso io farò il log ho detto lo dico non voglio copiare il mio contro te contro te contro te però ragazzi non sono siciliana solitario sono la proprietà non ho cominciato non voglio copiare il mio contro te mi piacciono questi capelli oh stiamo vedendo i miei vecchi video quindi li stoppo ciao 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 ciao